I laboratori sono dei luoghi dove i ragazzi possono esprimersi nei modi più diversi. Uno di questi modi che loro privilegiano è quello della street art, quindi quello della grafica, quello del rappresentare anche i propri sogni, i propri desideri, i propri progetti, la propria idea di città attraverso la street art. E quindi noi abbiamo voluto realizzare un progetto molto ampio, molto articolato in tutte le 26 educative territoriali con i tanti operatori impegnati quotidianamente con loro e quindi saranno frutto di un percorso lungo, articolato che riguarderà gli adolescenti praticamente di tutta la città. Ed è un progetto di cui siamo molto orgogliosi perché avremo modo di attraversare la nostra città e vedere rappresentati quelli che sono i sogni dei nostri ragazzi. Doppio appuntamento in occasione della giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Mentre oggi pomeriggio verrà inaugurato al Vomero il murales realizzato da Iorit con i ragazzi del progetto Adolescenti che raffigura Ilaria Cucchi, nasce un programma annuale di creatività urbana per il sociale, il primo festival di social street art che a Napoli coinvolgerà 1700 bambini e ragazzi e 220 educatori e operatori sociali realizzato con l'osservatorio nazionale sulla creatività urbana. Dai 26 laboratori di educativa territoriale verranno elaborate le opere scegliendo valori e parole chiave da realizzare insieme a famosi artisti, arricchendogli scenari urbani. I laboratori di educativa territoriale sono 26, sono distribuiti su tutto il territorio napoletano, in particolar modo nelle zone in cui c'è una presenza maggiore di ragazzi. L'arte nell'accezione più ampia, la cultura nell'accezione più ampia che è la danza ma anche la musica, quindi il rap, la break, tutte quelle forme di espressione che non sono strettamente quelle che noi adulti di un mondo molto più convenzionale e io direi a volte anche un po' scontato riusciamo ad interpretare. Quindi è anche un modo per chiedere alla comunità degli adulti e alla società in generale di ascoltare con un codice diverso i bisogni e le rappresentazioni dei nostri ragazzi.